Il Liard Collection Emilio Pucci è nata un po' per caso, grazie a un'amicizia di Andrea con me e con il marchio. È una passione, diciamo, comune per il bello, per le cose belle fatte in Italia. Abbiamo la fortuna di lavorare insieme in alta gamma, è una cosa tira l'altra. Io ho cominciato a chiedere ad Andrea di farmi dei balconi da caffè, tutto quanto, nel mio piccolo museo privato in campagna. E poi un giorno mi sono trovata a dire, ma se facessimo così, qualche tazzina. E poi da cosa è nata cosa e ci siamo detti, beh, Pucci ha una dimensione artistica, non è solo moda. I suoi grafismi hanno questa durabilità straordinaria e voilà, è diventata la prima casa di moda che ha fatto un'art collection. Ne siamo molto fieri.